Sono qui per dimostrare che c'è bisogno di un servizio tecnico urgente e non di un corpo militarizzato. Tutta questa marea di prefetti che sono stati assunti nel corpo nazionale non servono a nulla, sono degli incompetenti, sono degli incompetenti come quelli che stanno al governo perché legiferano delle cose inutili e assurde, a partire da Napolitano che firma tutto di più, Monti, Lavornero, la Cancellieri, si assumessero a questa responsabilità, si vergognassero innanzitutto. Ora ci siamo qui per chiedere un conto al Ministro Cancellieri che non ce lo vuole dare.